ma sei pazzo sei fuori di là e non è facile questa qua non è facile un cazzo prego prima ho tentato di allungarla ma ho maciurato sono cazzo sono cazzo sono cazzo sono cazzo sono cazzo cazzo è quello di tre tre cinque cazzo tre cinque via hop stana eva o sei stretta no devi allargarsi prima no accannato devo scendere da qua devo scendere da qua cazzo è più stretta anche la curvetta è più stretta adesso non ce la fai cazzo è bastardo eh però la fallo di là sembra più alto ancora però che giusto forse e di allargarla ancora di più bravo non 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 e però gli hai dato giusto eh prende il stronco e basta mi fa paura questo no 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 Sì, sì, sì. Qua la lega non trovo la misura. Fermati. No, qua l'ho provato a farli come te. E ho usato il pezzo in mezzo. Devi usare la punta. Deve usare... Eh, ma figaro arrivi... Eh, come se subito dietro deve schiacciare. Figaro, devi andargli giù subito. No, l'ho fatta. Pelata, ma l'ho fatta. Ho sbagliato qua. E' un errore di tracciatura. Non ho messo il funghetto. E' un errore di tracciatura quello. Se il pilota è furbo... Se il pilota è furbo lo vede. Così, hai fatto il furbo, hai sentito tutto dritto. Anche a scendere. Non si può girare. Non mi pare la curvetta. Eh, anch'io faccio così. Dei gamba, eh? Eh. Ah, non l'hai fatta. Dobbio no. Io mi ricordo ai tempi quando... Quando dava una mano a Maurino. Lui per quella roba bellissima. Perché? Se tu c'era 10 centimetri, gli altri non lo vedevano, lui lo trovava. Tutti sono così con la gente lì. Lui era c'era l'occhio con quelle roba lì. Via! Ti dagli il colpo. Oh, la vecchia! Eh, per me. Eh, non è facile, eh. Eh? Non è facile dargli il... Via! Via, 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 via! Se aspetti, devi dargli quando c'è sul dietro. E schiacciarla via. Se no non vai fuori. Non c'è verso. Eh, no, se ti fermi non va su più. Io sono riuscito a fare... Lui la fa qua. La fa di qua, cazzo. Ma è meglio evitarlo invece che froppolo. Eh, eppure, cazzo, sono soltanto sua, eh. Perché te lo... Guarda lui! Guardalo! Vedi? Via! Lui la fa qua. Vai! Se ti vedo che poi lì la fa saltare. Cazzo, usa questo, figa, no? Ehi, ciao! Beh! bravo, un po' di più arri fuori, fatto bene, bravo, larga bene la curvetta ti sei concentrati sui tromchi dai che se vai su ha detto che va a casa quindi parti da lì eh, spiace vai quasi, perché gli hai dato poco eh, perché vedi che il dietro ha fatto per venire su dopo tu sei mollato e tornato indietro l'ho preso ma per il coso guarda, mi ha pelato fuori il coso, non l'ho fatto in tempo gli ho preso la valvola e basta ho il cuore, un cazzo di sasso quasi era buona quasi era buona, ti è andato il dietro troppo di là perché sennò ti saltava su guarda lui, guarda lui, fermati, guardalo guardalo come lo fa uno lui fa anche di là senza neanche usarlo appoggio quando c'è sul dietro parte e basta no ma anch'io non mi trovo, vedi che vado su in qualche modo ma non riesco eh ce ne andiamo? che mi sono rotti i coglioni eh questa l'avevo sbagliata completamente si io capiva tanto basta dopo eh bravo perfetto perfetto, vedi che se la imbrocchi possiamo andare a casa spampi via 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 così via 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 Grazie a tutti.